Si è concluso domenica 22 settembre a Bova il format Luci sul Parco che per tre mesi ha caratterizzato con tante iniziative diversi comuni della Spromonte coinvolgendo migliaia di persone in attività culturali, escursionistiche, scientifiche, ludiche, sportive e ricreative. Tanti gli ingredienti che hanno reso appetibile ed interessante la giornata, le quattro escursioni con destinazione Bova, la degustazione del piatto tipico della cucina tradizionale bovese, la lestopitta, lo spettacolo dell'artista Pasquale Capri. Il format Luci sul Parco, promosso dall'ente Parco nazionale della Spromonte nell'ambito del piano di marketing turistica e territoriale por Calabria 2014-2020, ha preso il via il 15 giugno scorso in un'autentica giornata di festa a Gambarie. A parlarne il direttore dell'ente Parco, Sergio Tralongo. Sì, abbiamo iniziato il 15 giugno con questa iniziativa a Gambarie ed è stata un'iniziativa importante anche perché è abbastanza particolare rispetto all'attività dell'ente Parco perché abbiamo messo la stagione all'insegna anche dello sport e l'attività all'aria aperta. Quindi la collaborazione con le guide ufficiali del parco e con le associazioni escursionistiche ci ha portato a questo. Un'estate in cui siamo stati quindi presenti, in cui abbiamo permesso a tutti o almeno dato la possibilità a tutti di capire che cos'è veramente la Spromonte perché tutti continuano a dire che la Spromonte è un grande patrimonio, un patrimonio che non si conosce, però bisogna poi farle le cose perché altrimenti restano parole. Abbiamo cercato di dimostrarlo, concludiamo oggi ma non spegniamo certe luci sul parco perché proseguiamo su questa strada. Tante le iniziative fatte ma anche al futuro, insomma non manca l'impegno del parco da Spromonte. Il futuro deve essere sempre considerato il nostro obiettivo perché sappiamo bene che non riusciremo a risolvere certi problemi o a lanciare definitivamente il parco in una sola generazione mi verrebbe da dire. È un lavoro molto lungo, dico questo pensando a alcune cose veramente tristi che abbiamo sul nostro territorio, dai rifiuti e parlo dell'abitudine ai rifiuti delle aree attrezzate, delle aree picnic, è veramente vergognoso. Parlo del barconaggio, parlo di attività che veramente devono farci vergognare. Su quelle stiamo lavorando ma siamo certi che non riusciremo a risolvere l'immediato. Una cosa è sicura da parte mia, non la risolveremo mai da soli come ente parco. L'evento conclusivo di Luce sul Parco è stato concepito dall'ente parco nazionale della Spromonte e dalle associazioni con una formula particolarmente interessante. Nella prima mattinata infatti gli escursionisti partendo da quattro punti diversi attraverso percorsi autonomi e caratterizzanti sono giunti a Bova simultaneamente in un metaforico arrivo comune di un percorso congiunto ormai consolidato e che rinsalda i rapporti tra mondo associazionistico ed escursionistico ed ente parco nazionale della Spromonte. La giornata si è conclusa con gli interventi istituzionali del sindaco di Bova, Santo Casile, dei rappresentanti delle associazioni escursionistiche e del vice presidente del parco nazionale della Spromonte, Domenico Creazzo. Luce sul Parco nasce per valorizzare il parco nazionale della Spromonte e nasce per far percepire il parco nazionale della Spromonte non come un vincolo ma come un'opportunità. È vero che il parco nasce per tutelare la biodiversità ma grazie a questa tutela della biodiversità c'è un'opportunità di sviluppo per i nostri territori. Questo noi abbiamo voluto sottolineare e abbiamo invitato tutti quanti a venire nel parco nazionale della Spromonte per vedere le bellezze del parco nazionale, per viverlo e valorizzarlo insieme a noi. E con un solo borghi, non solo escursionismo, oggi tra poco degusteremo anche un prodotto tipico di questo borgo che è la Lestopitta. Il parco nazionale è anche enogastronomia e agroalimentare. Sono altre peculiarità, altre potenzialità dei nostri territori che dobbiamo valorizzare e anche grazie a questi avremo opportunità di sviluppo per il nostro parco.